Sembra scongiurato per il momento il pericolo di un disastro ambientale sulle coste della Corsica orientale. La chiazza di idrocarburi individuata a venerdì si sta progressivamente allontanando dalla costa, spinta dalle correnti. Tre navi sono sospettate di aver sversato gli idrocarburi in mare durante la pulizia dell'estive. Un'azione illegale, ma purtroppo frequente. Si tratta di idrocarburi usati che vengono raccolti nell'estive e normalmente devono essere degassificati nei porti. Per svuotare l'estive ci sono installazioni apposite, tuttavia alcuni, per risparmiare, svuotano l'estive in mare ed è quello che è successo in questo caso. Ci sono tre navi che dovranno essere controllate appena arriveranno nel loro porto di destinazione. Quello che è chiaro è che non ci arrenderemo. Siamo arrivati qui determinati a capire chi ha scaricato illegalmente in mare gli idrocarburi. Sono delinquenti e dovranno essere trattati da delinquenti. Sul caso sta indagando la procura di Marsiglia. Sono più di tre le tonnellate di idrocarburi già recuperate dalle imbarcazioni impegnate nel piano di protezione attivato dal prefetto. Il tratto di costa interessato è stato chiuso al pubblico. È la pesca proibita. È la pesca proibita. werde la pesca proibita. Grazie a tutti.